Sono già moltissimi gli iscritti all'edizione 2023 di Vibram Ultra Trail del Lago d'Orta in calendario 13, 14 e 15 di ottobre. Visto l'alto numero di iscrizioni e la volontà di Utro Events di garantire a tutti i partecipanti i servizi di livello decisamente alto, le iscrizioni alle distanze più lunghe, la 100 km, la 55 e la 34 km, si chiuderanno il 20 di settembre. Sarà invece possibile iscriversi fino all'8 ottobre, alla 21, alla 12 e al Vertical. Le novità di questa edizione sono rappresentate dal fatto che si correrà il sabato e la domenica, mentre il venerdì si aprirà l'Utro Village. Sabato alle 5 prenderai via la distanza più lunga, la 100 km con dislivello di 5.270 metri, che attribuirà 4 punti dell'International Trail Running Association e avrà un tempo massimo di percorrenza di 24 ore. Sempre sabato alle 7.30 è il via della 55 km, mentre una delle novità sarà la 12 km che prenderà il via alle 9 di sabato 14 ottobre, dislivello in questo caso di 360 metri. Ultima gara in programma è da sabato, il Vertical con start da Cireggio e arrivo ai 1.424 metri del Monte Mazzoccone. Domenica saranno due le gare in programma, la 34 km con partenza alle 8.30, alle 9.30 invece al via gli atleti della 21 km. confermata ma spostata dal sabato alla domenica la Utlino Run, corsa dedicata ai bimbi tra i 3 e i 12 anni, in collaborazione con il Parco della Fantasia Gianni Rodari e di La Forum di Omenia. Lo start sarà alle 10.30 e sarà preceduto dall'animazione del parco e da un laboratorio creativo.